. US Open, si ferma la corsa di Lorenzi e Shapovalov. Fuori Pouille, avanza quel rei. Non va oltre gli ottavi di finale la folle corsa di Paolo Lorenzi agli US Open 2017. . Il tennista senese, veterano del circuito, per la prima volta in carriera in una seconda settimana di un torneo dello slam, si è infatti arreso nella notte italiana alla potenza del servizio e dei colpi di Kevin Anderson, sudafricano e testa di serie numero 28. . 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 Di Flushin Meadows 2017, ha mai raggiunto una semifinale slam, mentre dall'altro lato Federer e Nadal sembrano contendersi un posto in finale. Querrey, 17, M. Verev, 23, 626261. Lorenzi, Anderson, 28, 46367 6446. Shapovalov, Carremo Busta, 12, 67267 4673. Pouille, 16, Schwarzman, 29, 673576226.